Allora, prima di Gilberto, provincia di Milano, ci sono ancora altri, ma no, Gilberto, dimmi due cose, Gilberto, che mi vuoi dire? Allora, ti volevo dire che mi sono fatto il cazzo di ascoltare Via Rasella, i rom, e non si parla di quello che è il vero problema dei problemi, che è un problema economico oltretutto, è l'inflazione delle puttane. Cioè le puttane costano di più, questo è interessante perché siccome c'è l'inflazione che galoppa, anche le puttane evidentemente... Ma non ne parlano, perché non... Beh, parliamone noi, parliamone noi, perché se non ne parla nessuno è il caso che noi cominciamo a parlarne, è questa è... Gilberto, io ti porto un fatto concreto, sono stato recentemente a Berlino, vado a Berlino, sono un manager, vado per lavoro... Certo, un manager lui, lui è un manager... Allora? Come tutti i manager che vanno a Berlino, a questa fiera del... che ci sono, ce ne sono tante, poi la sera ci si ritrova tutti all'Artemis... L'Artemis è un clande classico, ha molto frequentato l'Artemis... Allora, ti dico i prezzi, allora, ingresso 50 euro, e questo già è altissimo, con due consumazioni di merda, due cintonico, due cazzate di merda proprio... 50 euro solamente ingresso e consumazione? O due consumazioni? O due consumazioni? O due consumazioni? Con due consumazioni, due consumazioni, poi c'è lì tutta la platea, e qui lascia un altro problema economico, e qui deve entrare l'antitrust di azione, perché? L'antitrust? Perché non c'è negoziazione più, lo so, non c'è negoziazione, è vero, ma quanto costano, 70 a mezz'ora? 100, 100... È aumentato, è aumentato... Ma ti rendi conto di che costa... 100 mezz'ora... La vergogna di cosa stai parlando... Non è finito, c'è un altro problema, poi tu dici, vabbè, parli con una ragazza, ti scegli la tua, eccetera, vai nella tua camera, e a questo punto gli chiedi, vabbè, se ho dato 100 euro, 50 euro di ingresso, gli chiedi un massaggio prostatico, 10 euro, poi gli chiedi, vabbè, facciamo un curilingus, 10 euro, gli chiedi un bambino con la lingua, 10 euro, solo c'è sovrapprezzo, però scusa, ma che vergogna la telefonata, non quella... Gilberto, posso dire una cosa, domani ci sarà una serata particolare qui in questa radio, con un ospite che è molto molto moralista su questo tema qua, ti invito, prendiamo il numero, conserviamoci il numero di Gilberto, e non ti preoccupare, farai presente a questa persona cosa succede in un bordello a Berlino, dunque io ti invito domani sera, spero tu abbia tempo intorno alle 20, 20 e 15, così mi descrivi il vero problema, il vero problema è l'inflazione delle puttane, ciao amico mio, ciao. Molto interessante, molto interessante, allora io farei risentire, farei risentire però quello che è successo pochi giorni fa, perché ha suscitato un po' un dibattito online, ma non solo, quello che ha detto la signora Vera Gemma, la grandissima Vera Gemma, come sapete è un'attrice, è uscita anche un suo film in questi giorni che si chiama Vera e che è un po' alla sua autobiografia, che è stato premiato a Venezia, lei è stata premiata a Venezia, che in piena libertà, in piena e assoluta libertà di pensiero, cioè è una persona vera, come il suo nome, vera, nome omen, che non è che ha peli sulla lingua, non è che si lascia condizionata politicamente corretto, questo lo posso dire, quest'altro non lo posso dire, soprattutto cosa ci rimetto a dire questo, cosa ci rimetto a dire quest'altro, e poi non ha detto nulla di grave, ha detto delle cose normalissime, ha detto delle cose normalissime, cioè normalissime no, ha detto quello che lei prova, per esempio vuole essere chiamata Troia, cioè che non c'è nulla di male ad essere chiamata Troia, vai regia, vai regia, vai regia, chi pensa di affermare la cultura generalmente, esatto, chi si sente intellettuale, stavo facendo dei complimenti, se vuole che le dica che è una stronza, e gli dico così, ho detto, è viva, cernate, ma io riesco a capire, ma no, ma signora, scusi, io ho detto, felice che abbiamo un'attrice, complimenti per aver vinto la mostra in cinema, e mi dice felice, se non è una stronza, ma se lei bisogna scegliere tra stronza e Troia, Troia mi eccita, stronza mi offende, tra intellettuale Troia cosa preferisce? Troia, assolutamente tutta la vita, preferisce essere chiamata Troia piuttosto che intellettuale, ma tu ti rendi conto? Grandissima, 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 ancora, 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 se uno ti dice brutta Troia per strada? No, se uno dice brutta Troia per strada mi incazzo, perché se uno mi dice brutta Troia mentre stiamo facendo del sesso mi piace, lo vedi? Poi ha detto, poi ha detto che con la droga, con certa droga, con certa droga si scopa meglio, ma questo non è che lo dice lei, lo diceva anche un nostro, no, un... Ma sono temi che meritano approfondimento, sono anzi cose che devono essere rilanciate ancora lì, mi vergognerete a morire. Senti, 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 senti. Con le droghe si scopa meglio o si scopa peggio? Dipende dalla droga. Ecco, questo è importante. Marihuana si scopa meglio, eroina si scopa meglio, cocaina no. Estasi, vabbè, fantastico. Non le consigliamo normalmente qui, eh? No, io non sono qua per consigliare le droghe, però se tu mi dici con quale droga si scopa meglio ti rispondo. Anche qui scienza, scienza ed effetti sulla propria persona, sul proprio corpo della droga. Ancora, ancora questa è una frase più contestata di altre, poi però l'ha spiegata, senti. Però sulla violenza non ne posso più. Io voglio essere violentata. Come vuoi essere violentata? Io voglio, la mia fantasia è essere stuprata. No, ma questo non si può dire, questo non si può dire. Comunque la tua fantasia è questa. Esatto. Davanti alle fantasie non si può fare. È talmente di moda combattere la violenza sulle donne che io chiedo di... Ma adesso chiedi, adesso è meglio non essere stuprati, non essere violentati. Meglio non essere stuprati, non essere violentati. Lo possiamo dire, è meglio non essere né stuprati, né violentati. Però esiste questa fantasia, ognuno ha le sue fantasie. Dipende, dipende come. È chiaro che la violenza vera di uno che ti fa del male ti stupra, per carità. È chiaro, però uno preso con forza, uno sconosciuto che ti prende con forza, tu dici in questo senso... Per me è una fantasia erotica fantastica. Specifichiamo cosa significa violentata e stuprata, sennò qui si incazzano con noi. E ancora, mi sono prostituita. Vai. C'è una corrente femminista che dice che la prostituzione è praticamente la distruzione del corpo delle donne. No, la prostituzione è una forma sana assolutamente di generosità e io amo le prostitute. A mia volta sono stata... Stabilizzano la società. Tu sei stata un po' prostituta? No, no, sono stata proprio prostituta. Facevo la spogliarellista a Los Angeles e poi mi è capitato anche di accettare dei soldi per... Per sesso? Per sesso. Quanti soldi li ho? Per una scopata? Dipende, ogni volta... Oggi lo fareste ancora? Allora, la grande accusatrice in questi giorni della signora Vera Gemma si chiama Caterina Collovati. Buonasera. Buonasera, buonasera. Applausi, applausi, applausi. Buonasera, signora Collovati. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera Marenzo. Meno male che c'è lei, va, perché qua altrimenti... No, lo so, mi dispiace che l'hanno... Cioè, sono felice che l'hanno invitata, ma mi dispiace perché è dovuta intervenire. Mi dispiace molto. Perché ti riprega? Io ho sentito delle cose deliranti. Eh, lo so. Deliranti. Adesso me le hai fatte riascoltare tutte insieme, perché un po' ti avevo ascoltato, un po' le avevo lette. E quindi, secondo me, la signora Gemma, quella giorno, è venuta proprio ben fornita in corpo di quelle droghe che ti aveva nominato. Ma non diciamo cazzate, su. Le ha nominate tutte, aveva una grossa conoscenza. Perché non c'è la libertà di drogarsi, anche se fosse, non era così. E poi, la libertà, per carità, gliela lasciamo tutta. E allora? Però vorremmo non dicesse alla radio quelle schifezze. Ma non può quale schifezze ha detto. Allora, andiamo al punto principale. Può fare un esposto, dottoressa Collavatti. Può fare un esposto, per favore. Provvederò, provvederò. Grazie. E visto che è lì, salga al quinto piano, vada dal direttore Tamburini, che piano sta al direttore. No, è all'ottavo, no, non mi ricordo. All'ottavo? Credo all'ottavo, sì. Vada all'ottavo dal direttore, visto che è lì e fa un esposto, dicendo che... Ma si è fissato con gli esposti, tu. A me piace molto l'esposto. Sì. Ma invece faccio un esposto. Sì, che non serve un cazzo. Esposti. Faccio un esposto. Però, scusi un attimo. Allora, partiamo da un punto fondamentale, dalla parte più controversa, che è quella che ha detto, in cui la signora Gemma ha detto, voglio essere, vorrei essere stuprata e violentata. Ma è ovvio che diceva un'altra... Ma questo lo dice lei, Cruciani. No, lo so, me l'ha detto, me l'ha spiegato. Perché lei, per doveri professionali, deve aggiustarla la cosa, in qualche modo. No, no, non è questo. Parliamoci chiaro, ma la signora Gemma ha detto effettivamente che lei vorrebbe... Anzi, la frase precedente è... Sono stufa di questo combattere la violenza contro le donne. No, ma no. Basta, questo è. No, di questa prosopopea sulla violenza contro le donne. Ma non è mai abbastanza urlare contro la violenza contro le donne. Ma di che cosa stiamo parlando? No, stiamo parlando di una ragazza, di una signora, ragazza, chiamatela come volete, di un'attrice, che è venuta qui a dire che la fantasia che ha lei, come anche di tantissime donne, è quella di essere presa con violenza e con forza. Ma è di una svalvolata, stiamo parlando di una svalvolata. Ovviamente col consenso, non senza consenso, col consenso... Stiamo parlando di una svalvolata. Stufa di sentire parlare di violenza contro le donne e vuole essere stuprata. In maniera ridicola. Faccia pure. Dopodiché, quando ha detto, voglio essere chiamata Troia, allora, è un appellativo che a tutte le donne del pianeta fa orrore, secondo me. Ma non è vero, la maggior parte non fa orrore, a lei fa orrore. A molte persone... Alle persone per bene, che hanno un senso del decoro, assolutamente questo termine non piace. Io preferisco altri termini, va bene? Ma lei preferisce altri termini, per carità. Ma non è che se uno vuole essere definito Troia significa che è una zozzona o deve essere insultata e attaccata come se fosse una poco di buono. è semplicemente una che ama essere chiamata in un certo modo, ovviamente durante una prestazione sessuale. Sì, lei piace essere chiamata come... Sì, quando uno scopa di... La femmina del maiale. Sì, ma qual è il punto? Ma chissà, ma perché? Lei non è capitato di essere insultata durante... Non mi voglio fare gli affari tuoi. Ma non è necessario se si è normale. Non è necessario. Perché è normale essere chiamata Troia durante un rapporto sessuale. Sì, io ho questi rapporti così sfrenati come i suoi, per fortuna non l'ho mai avuti. Ma certo, ma certo. Cruciani, lei, insomma, sappiamo che è un esperto, però... No, ma non è questione di essere esperti o non essere esperti, signora Colomani. La questione è un'altra... Comunque, vada, faccia rapporto, come si fa, faccia rapporto... Vado? E spieghi al direttore queste usanze di questa signora che le piace farsi chiamare così. Ma soprattutto questa signora che le grida ai 420, e questo è vergognoso. Ma è in un mondo già così sbalvolato, dove i nostri giovani, io insisto, perché... Brava, molto bene. Insomma, sono madre di due ragazze giovani, parlo ai giovani tutti i giorni in televisione, faccio veramente battaglio. Ha mai chiesto questa cosa alla sua figlia, alla sua figlia, adesso non voglio di nulla. Ha chiesto... Le mie figlie, avendole educate alla mia maniera, non ha... E che ne sa, lei, che è nell'intimo quello che fanno? Magari non lo dicono, giustamente... Bravo, se anche fosse, sono fatti che non si raccontano così in maniera... Ma non è vero! Perché oggi questo desiderio di trasgredire per colpire è veramente qualcosa di... Di antipatico, cioè, mostra una mancanza di contenuti in altri ambiti, cioè, il film è stata premiata... Allora, una mia amica mi scrive, te era Gemma la mia nuova istituzione, l'amo, la gente ama la sincerità, la verità... Ma quale gente, è un messaggio di un'altra sbalvolata, la vecchietta tua... Ma tutte lei le incontra, Cruciani, stiamissi, quella di prima ricercatrice che però si fa chiamare porca, non lo so io... Ma io non vengo più qui, ormai non è più... Cioè, mi discredito a sedermi su questo banco... Ma no, perché discredito? E no, perché fra un po' non lo so... Che cosa? Ma io non mi ricordo necessario dichiarare di essere porca... Io vado da Parenzo a Roma la prossima volta... Certo, qui è rimasto un avamposto di civiltà, questo qui ancora... Quando vengo io, naturalmente... Quando vieni tu, viene inquinato da personaggi improbabili... Perché l'ha colpita questa roba qua? Io ho letto quello che lei ha scritto su Instagram, è una cosa di una pesantezza assurda... Cioè, non si può scrivere una cosa di questo tipo... A Vera Gemma piace essere chiamata Troia, ha detto testualmente che tra intellettuale, stronza e Troia preferisce quest'ultimo appellativo... Io pure, se mi dicono intellettuale, mi offendo francamente... Se mi dicono intellettuale, cosa che non so, non mi offendo profondamente... Ma allora va bene, ti offendi con intellettuale, fatti chiamare stronza, che stronza un po' significa una tosta... Ma non farti chiamare in quel modo, come se fosse una medaglia, quel termine è una medaglia da appuntarsi al petto... Ma una donna deve essere un po' Troia, signora Colovani... Ma non capisco cosa ci sia di male... Perché deve essere ancora una volta sempre considerata dall'uomo come un oggetto del desiderio... Perché l'uomo deve pensare solo questo... Perché se uno dice porco a un uomo... Ma io non lo dico, a me l'uomo porco non mi piace... E vabbè, questi sono affari suoni... No, io guardo altro in un uomo, ma andiamo oltre, guardiamo la testa, guardiamo cosa ha fatto, cosa ha raggiunto... Dice che ha provato l'eroina, la coca, la marijuana che legalizzerebbe fin qui passi... Poi su questo proprio è da galera... E poi dice che... Ha detto con quali droghe si fa meglio sesso, qual è il problema, non ho capito... Che cos'è, un'istigazione a drogarsi questa roba qua? Voglio dire, è una stimolazione a usare le droghe ai ragazzi giorni... Ma non diciamo cazzate... Perché oggi di droga non parla più nessuno... Oggi di droga non parla più nessuno... E sappiamo invece come fa ancora gravi danni la droga, va bene? Ma cosa c'entra? Che è un personaggio pubblico, ne parli a un microfono di una trasmissione così importante come la sua... Ma io l'ho fatto apposta perché lei parli sinceramente... E mi domando anche questo, Cruciani, mi lasci dire, perché fin quando viene qui da lei, lei è un trasgressivo... Quindi fa dire cose allucinanti a tutti quanti... Ma che vada in trasmissioni, insomma, anche di TV di Stato, sinceramente mi lascia molto perplessa... Ma queste cose non le ha dette però dalla signora Fagnani, per fortuna... Beh, non è andata, solo lì è andata anche altrove, delle droghe... No, la dottoressa Fagnani è stata molto composta... Trasmissioni sui giovani... Fermi tutti, fra poco torniamo... Lei è troppo moralista però, è insopportabile... No, è un trasmissione, è un moralismo insopportabile... No, io sono una persona per bene... È un moralismo insopportabile... Perché lei mi dice che non... Perché sta dicendo che il vero Gemma non è per bene... Beh, una che si esprime in quei termini... No, è una persona per bene... Ma come cazzo si fa? Qualche dubbio me lo fa venire? Ma come si fa? Fermi tutti! Cruciani, vai a fare in culo... Sto ancora vomitando... Dopo aver ascoltato il podcast di ieri sera... Nel sentire quella squinternata... Che ha intervistato... Quella cinzietta... Che vende quei cazzo di video in cui scoreggia... Ai miserabili che li comprano... Devi andare a fare in culo... Fai sembrare il popoco italiano... Un popoco di pervertiti e disadattati come te... E non è così... Descrivi questa fetta d'Italia malata... Che tu rappresenti... Non vai ad esempio a far parlare... Gente come me... Che sono 15 anni... Che sono... Che sto con mia moglie... Ne ho 35... E sono rigorosamente monogamo... E contento di esserlo... Siamo sposati ormai da 6... Per il resto devi andare a fare in culo... Capito? Fai passare noi... Come quelli che non sono normali... E gli squinternati... Che acquistano i video di queste disadattate... Come persone normali... Vai a cagare Cruciani... Sto ancora vomitando per colpa tua... Stronzo... Pazienza... Pazienza... Voglio ricapitolare anche... Per la signora Collovati... Che è una fustigatrice di queste... Io sono d'accordo con quel signore... Che ha chiamato... Escluse le parolacce contro di te... Che non mi piacciono... Tu non le... Non le... Non usi parolacce... Non le frequento... Quindi siete tutti alleati nel moralismo più sfrenato... Ma non c'è moralismo... C'è buona educazione... Ma tu perché usi questi termini offensivi... Sono offensivi questo... Baccottonismo... Noi siamo persone con una civiltà corretta... Insomma... Non so come dire... Perché io che mando a fare in culo le persone che sono scorrette... Che c'è... Sei un maleducato... Sei uno che mastica con la bocca aperta... Sei uno che si mette le dita nel naso... È equivalente a quello... Ieri è intervenuta una signora che si chiama Cinzietta... Cinzietta... Che è una protagonista di Olli Fan... Se vorrei far sentire queste cose alla signora Collovati... I video dove scorreggio... Questa è la richiesta... Secondo me sono quelli che mi piacciono anche a Daniele... Oh per carità... Sentiamo... Sentiamo... I video dove scorreggio... La richiesta proprio... Mi scusi signora... Mi scusi signora... C'è una richiesta così... Sei la numero uno... Signora... Quanto parla a me sono quelli che piacciono a lui... Proprio... Non so... Me lo sento... Poi vende anche mutande usate... Ma questo l'abbiamo già ascoltato... Però dice che bisogna usarle nei giorni dell'ovulazione... Le mutande... Pensate... Perché sono molto più... E sta... E sta rabbrividendo... Ma veramente... Ci sono colovati e sta rabbrividendo... Vai Cinzietta... Vai amica mia... Vai... Ma hai detto anche che vendite le mutande usate... Però con una particolarità... In certi giorni... Quale che ti... Cosa ti... Bisogna usarle nel giorno dell'ovulazione... Assolutamente... Cercano quei giorni lì... Beh... Perché se no... Eh... Per loro non... Non profumano... Bisogna proprio che siano profumate... Beh... Questo è straordinario... Quindi quei giorni per loro è il topo... Bravissima... Bravissima signora Cinzietta... Un rapido... Trenta secondi di giudizio rapidissimo... Della signora Colavati... Beh... Guarda... Sarò rapidissima... È depravazione morale... Quella di Cinzietta... Ma non è depravazione... Cinzietta è proprio depravazione... È demenza morale... Perché è uno che non si rende conto che queste cose... Certo... Ma non solo non si fanno... Ma manco non si dicono... Ma cosa... Ma che orrore... Ma perché? Non ho capito... Faccia così Colavati... Mi faccia una gentilezza... Mi faccia una gentilezza... Dottoressa Colavati... Lei prenda la registrazione... E appena esci da lì vada in procura... Va bene... Vada in procura... Sì... No no... Ragione... Perché questa è proprio... Io invito la persona qui in studio... Sì... Sì... E viene la persona che poi... Sì... Con i cosiddetti nastri... Va in procura... Va in procura... Ma qual è il reato? Direttamente... Appena esce da lì... Appena non so... Si è aperta la procura... Questo è il tema... Però lei intanto esca... 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 Si faccia consegnare i nastri... Esca dalla... Porti con sé la regista... Che è quella ragazza che lei vede... E come aggravante dica... Che a fare la regia è una donna... Che quindi è costretta a trasmettere... A mandare in onda queste porcherie... La porti come testimone... Io sono qui a Roma... Domani me ne vado... Perché vado in vacanza... Quindi mi chiami al telefono... Se vuole avere delle testimonianze mie fattive... Da dieci anni a questa parte... Ho una documentazione continua... E' costante cara... Esatto... E facciamo rinchiudere Cinzietta... Ma che c'è a rinchiudere... Non c'è niente a rinchiudere... Gilberto da Roma... Gilberto da Roma... Gilberto da Roma... Dai... Gilberto dimmi... Cruciani come Trump... Gilberto scusami... Cruciani come Trump... Allora Gilberto... Ieri ci stavi raccontando... Dell'inflazione delle prostitute... Spiegami bene perché è un problema... L'inflazione sul costo delle prostitute... Cioè ce ne sono troppe? No no no... Innanzitutto vorrei rispondere all'ascoltatore di prima... Perché gli spiego che... L'inflazione delle prostitute avviene per un semplice principio keynesiano di economia... Che è la legge della domanda dell'offerta... Durante il Covid... Le prostitute costavano niente... Perché non c'era la domanda... C'era l'offerta e non c'era la domanda... Adesso invece la domanda è aumentata in maniera esponenziale... L'offerta più o meno è sempre quella... Quindi i prezzi salgono... Sì ma quello d'accordo... Ma tu hai fatto degli esempi concreti nei bordelli tedeschi per esempio... Gli esempi concreti sono allora che a Berlino... All'Artenis che è un noto bordello berlinese... Berlino è pieno di bordelli... Sì sì... La città forse più... All'Artenis... A parte che... C'è la prestazione singola quanto costa la prestazione singola? La mezz'ora... Mezz'ora 100 euro... Prima quanto costava? 70 mi sembra... 70-80... Ma credo... Era la prima volta che andavo all'Artenis... Però credo che costasse 70... Lei quante volte va a puttane più o meno mensilmente? No no... Ci guardo soltanto quando sono all'estero... Quando va all'estero... Ma le frequenta i bordelli... Le frequenta un frequento... Le piacciono i bordelli... Diciamo la verità... Le piacciono i mitici FKK... Quando sono all'estero... Sono stanco da una giornata di lavoro intensa... Le fiere... Esatto... A parlare sempre con le persone... Scusi ma gli extra... Sbure sono aumentati gli extra... Gli extra per esempio... No gli extra... Una volta non si pagavano gli extra... Cioè tipo... Mi faccio un esempio di un extra... Mamma mia... Massaggio prostatico... Massaggio prostatico non si pagava prima... Cioè se tu chiedevi di farti fare un messaggio prostatico... No... Gilberto... Gilberto mi scusi... Però lei sta messo male... Perché insomma lei deve essere un imprenditore... Da quello che capisco... Prenda le generalità... Colovatti... Prenda le generalità di questo maiale... Che cos'è... Non lo so... Ma insomma c'è bisogno di pagare le donne... Perché lei le vuole umiliare... In quei dieci minuti che sta lì... No... Le posso spiegare... Le posso spiegare... No... Lei si deve vergognare... Gilberto... Se è ridotto così... Voglio dire... Ma vada a dormire dopo la fiera... In modo tale che il giorno dopo... L'affare viene meglio... È più lucido... Eh... Ti capisco... Ho risposto in maniera molto chiara... Lo faccio soltanto all'estero... Perché quando... Vabbè ma che c'entra questo? Quando sono all'estero... Che sono due giorni... Ma lei è sposato... Lei è sposato... Fidanzato... Che cosa sei? No... Sono separato... Sono single... Vabbè... Questo non c'entra nulla... Volutamente single... Eh... Comunque in ogni caso... Vai all'estero e tu non ti vergogni... Uno deve essere fiero... Non ti farà attaccare la signora Colovati... Devi essere fiero... Di essere un puttaniere... Sono un puttaniere e ne sono fiero... Che vergogna... Lei umilia le donne... Le paga... E si fa fare tutte quelle schifezze... Che ci ha raccontato... Signora Colovati... Le posso fare una domanda... Ma si trovi una compagna... Sì me la faccia... Le posso... Ma ce l'ho... Magari ce l'ho anche... L'ho avuta... Adesso... Adesso sono solo... No... Lei non è in grado di mantenere un rapporto... Lei c'ha qualche problema... Perché chi deve ricorrere alle... A quando mai... Prostitute ha problemi... A quando mai... Allora penso che... Metà degli uomini abbiano problemi... Esatto... Sì vabbè... A voi piace dire così... Ma non è vero... A me lo sei Gilberto... Grazie... Non è vero... Allora abbiamo qui però... Una rappresentante... Diciamo... Di chi gli uomini... Secondo me li usano... Sono gli uomini che usano lei... Cioè... Le prostitute... Hanno un grande potere in mano... Sono loro che detengono il potere... Altro che... Quello che dice lei... Signora Colovati... Ma quando mai... Cruciani... Ma con una prostituta... È un momento in cui... Stabilisce l'appuntamento... È lei che comanda... È lei che domina... Lei decide l'orario... Quello che deve fare... Ma non è vero... Ma quando mai... Ma a me non risulta... A me non risulta... Donatella... 37 anni... I laureate in ingegneria... È una... È una escort... Diciamo di... Di alto livello... Da ormai da 10-15 anni... Buonasera signora Donatella... Buonasera... Ciao Giuseppe... Ciao... Ciao... Allora... Quanto mi dispiace... Vuoi dire che sei tu che guidi... Che sei tu che comandi... Ma chi è un'illusione... Dove guida... Dove guida... Che cosa guida... Guida... Deve fare quello che dice il cliente... Punto... Ma quando... Assolutamente... Assolutamente non è così... È il cliente che fa quello che dico io... È il cliente che mi paga... È il cliente che fa... Quanto dico io... Appunto... E se il cliente non mi piace... Se il cliente non mi piace... Se chiama una persona... Che non si pone come io gradisco... Non mi scrive come vorrei... O non si presenta come vorrei... Io non ci esco... Non ci vado... Io non apro la porta... Io appacco il telefono in faccia... Ma Donatella... Donatella è laureata in ingegneria... Iscritta all'albo di praticanti... Se sei collegata con il viva voce... O con l'auricolare... Per favore mettiti col telefono... Perché sentivo un po' un rimbombo... Ed è addirittura laureata... In scienza dell'alimentazione... Oltre che in ingegneria... No ma per dire che... C'è la sua... È anche una... Ovviamente una scelta economica... Molto forte... Perché è evidente... Che lei arriva a guadagnare... Ce l'ha detto l'altra volta anche fino a 50... 60... 70 mila euro in alcuni momenti... Però bisogna dire... Che non capisco quale sia il problema... No io te l'ho già spiegato qual è il problema... Il problema è di essere un oggetto... Nelle mani di quel signore che ti sta pagando... È inutile... Perché la legge è proprio questo... Nel momento in cui compro qualcosa... Il cliente ha sempre ragione... Si dice così... E quindi lei deve sottostare... Lei ci racconta una favola... Ma non è quella... E le dirò che tutti questi facili guadagni... Che voi raccontate... Che prendete oggi... Un domani vi saranno... Vi torneranno indietro... A livello di psiche... A livello proprio di quello che avete perso... Di pentimento... Nel momento in cui quel signore chiude la porta... Lei si fa un pianto secondo me... Donatella... Glielo dico... Donatella... Assolutamente... Assolutamente... Io mi faccio un pianto vedendo... Delle amiche... Chiamiamole così... Che passano le serate... In giro per discoteche gratis... E che finiscono nei parcheggi della discoteca... E quello la chiamano amicizia... La chiamano io... No... Io no... Assolutamente... Non ho mai preso... Soldi per prestazione sessuale... Certo... Lo fai tutti i giorni gratis... A destra e a sinistra... Ma io... Vabbè... Quello che c'entra però... Però... Allora... Quello può essere una scelta... Mi può dire... Almeno mi sento... Di valere... Scusami... Donatella... Donatella... Scusami un attimo... Io sento veramente un rimbombo di questa telefonata... Un rimbombo della voce... Comunque va bene... È la sua coscienza... Il rimbombo della sua coscienza... No... Però scusami un attimo... Assolutamente... Scusa ecco... Mettiti bene un attimo col telefono... Togli il viva voce... Togli l'avigolare... Comunque Trump esce senza manette eh... Ma ha imbronciato... Allora... È vero che... Vuoi le manette Farenzo? Sì... Manetto... Farenzo... No... Farenzo vorrebbe... O anche le corde... Le fruste... Hai anche le corde... Signora... Grazie... Non c'è problema... Ecco... È vero che... Ovviamente con regalino in più... Ovviamente con regalino in più... Scusa... Quanto riesce a farti pagare al massimo per una sera? Vuoi ricordarlo la signora... Così è chiaro un po' Quella è il punto... La signora qua... Collovati... Al massimo... Non ci sono limiti... Non ci sono limiti... Anche 5.000 euro... È capitato... Anche 6.000... Anche 1.000... Ti senti mortificata... Ti senti mortificata nel tuo corpo? Assolutamente... Mi sentirei mortificata... Ad andare gratis... A destra e a sinistra... Come fanno tante ragazzi... Ma quella però è una scelta... Donatella... Donatella... Stia attenta però... Perché c'è un'inchiesta in questi giorni... Su Corriere della Sera... Che parla proprio di escort... Che rischiano... Perché si incontrano anche i maniaci... I folli... Quelli che possono anche poi... No stia attenta... E ho capito... Ma lei chiusa nelle quattro mura... Questo tira fuori un coltello... Lei che fa? Ma che c'è da voi? Lo può succedere a tante persone... No ma per piacere... Ma rischi... Guardia di ultima generazione... Collegati con tutte le forze dell'ordine... Tra l'altro ho anche tantissimi amici... Nelle forze dell'ordine... Che proteggono e stimano le escort... Allora secondo me... Che fanno un lavoro dignitoso... Che andrebbe regolarizzato... Ci dovrebbe essere un codice a tego... Per questo tipo di... Certo... Le donne... Le donne sfruttate dagli uomini... Dobbiamo regolarizzarle... Ma certo... Non sono sfruttate dagli uomini... Sono loro al limite... Che sfruttano dagli uomini... Andrebbero regolarizzate... Posso dire un'altra cosa... Per chiudere... Secondo me... Per la società... Le escort hanno una funzione... Di stabilizzazione... Ma figara... Cioè le escort... Le prostitute... Stabilizzano la società... Perché... Facendo liberare... Diciamo un termine brutto... Svuotare... L'uomo... No... Utilizzo questo termine brutale... Facendo... Contribuendo allo svuotamento di un uomo... Dal punto di vista anche mentale... Fisico... Oltre che pratico... Esatto... La funzione è quella del water... No... Quindi la funzione è quella di un water... La donna in quel momento... In procura signora... In procura... In procura... Ma Donatella sarà d'accordo... Siccome questa è la funzione... Spesso di una escort... È una funzione di stabilizzazione della società... Sei d'accordo Donatella? Esattamente... Esattamente... L'uomo trova il suo punto di equilibrio... Io ho salvato fiorfiore di famiglie... Fiorfiore di famiglie... Gli uomini... Senta... Ma vada a fare la badante... E anche lì pagano... Il loro momento di piacere... Dal lavoro... Dalla famiglia... Dalle nostre... Di tutti i giorni... E vanno... Tranquillamente... Si ricaricano... E vanno meglio di prima... Grazie Donatella... A presto... Ci vediamo a Roma... Italiani! Italiani!